volete sempre fare lo spettacolo o no si si è ovvio charles bois è un grande è vero che farà lo spettacolo con noi sì ma se non fa mai le prove ciao ciao buongiorno gabrielle buongiorno ecco le mie bambine lei è il suo figlio e lei gabrielle piacere cin cin vostro marito è lui che insegna in india il mio fidanzato è dall'altro capo del mondo e allora perché non lo raggiungi non è una scelta facile hai già il biglietto soli sull'aereo e voli da lui gabbie è innamorata un ragazzo si sono baciati e tutto il resto tu pensi che si siano toccati gabrielle hai toccato il bene di martin no no io non ho toccato il bene di martin non si sono toccati non si pone limiti anch'io vorrei abitare in un appartamento come te vorrei decidere della mia vita come te vorrei essere normale come te in un appartamento da sola ma è una pura follia il centro l'ideale per sì e ti toglie il problema come scusa ti prego non dire niente a mia madre martin è sempre il benvenuto nel nostro centro è tutto troppo veloce forse è il momento ma come c'è ragione per quelli come loro funziona diversamente se chante c'è per qu'on m'entendere quando c'è c'è per me difendere ti vuoi fidanzare con me? si che voglio anche io ragazzi io ho scoperto che Arnold Schwarzenegger è stato pagato circa 21.430 dollari per ogni parola detta in terminator 2 l'attore aveva un cachet di 15 milioni di dollari e pronuncia 700 parole nell'intero film quindi non so per la frase vieni con me se vuoi vivere ha intascato faccio un veloce calcolo così 128.574 dollari avete la sensazione di aver sbagliato mestiere non vi preoccupate comunque perché la maggior parte degli attori sta proprio con le pezze al grazie per essere stati con noi ci rivediamo al prossimo video grazie 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 grazie